per me è benissimo, se papà è contento, papà è contentissimo e pace, con Angela ci troviamo benissimo, ci siamo abituati ad averla in casa io per me sono d'accordo se sei marita con papà bravo, bravo, questa è una risposta da uomo la noccia eh sì, la noccia, tu sei contento, eccetera, eccetera Angela per me